Preghiera a Santo Onofrio In questo momento speciale, invito tutti voi a unirvi a me in una preghiera dedicata a uno dei santi più venerati e prodigiosi, Santo Onofrio. Attraverso le sue parole di amore e fiducia, ci immergeremo in una preghiera che tocca i cuori e risveglia la speranza, specialmente per coloro che cercano conforto e sostegno nei momenti di difficoltà finanziaria. Che ogni parola che pronunciamo risuoni nelle nostre anime, guidandoci lungo un cammino di luce e prosperità. Preparatevi per un'esperienza veramente trasformativa, perché la fede e la devozione ci condurranno a una nuova comprensione del Divino. Siete pronti per questo viaggio di fede e speranza? Allora, iniziamo la nostra preghiera a Santo Onofrio. Fiduciosi che saremo benedetti con infinite grazie. Glorioso Santo Onofrio, che per divina provvidenza foste santificato, e ora siete nella presenza di Dio. Come hai chiesto tre grazie a Gesù Cristo, ti imploro quattro grazie. Glorioso Santo Onofrio, così come Cristo ti ha ascoltato, ascoltami nelle grazie che ti chiedo. Glorioso Santo Onofrio, ti supplico di concedermi la grazia della saggezza finanziaria, perché possa gestire con prudenza le risorse che mi sono state affidate. Che sappia utilizzare il denaro in modo responsabile, investendolo in modo da garantire il benessere della mia famiglia e il mio sostentamento. Tu che sei stato padre dei celibi, sii anche mio padre. Tu che sei stato padre dei sposati, sii mio padre. Guidami, Santo Onofrio, sulla via della prosperità e dell'abbondanza. Che io possa trovare opportunità di lavoro e affari che mi consentano di prosperare e raggiungere la stabilità finanziaria. Glorioso Santo Onofrio, per le piaghe di Cristo, per i sette dolori della Santissima Madre, per la Santa Croce, ti supplico. Ascoltami nelle grazie che ho appena richiesto. Affinché il mio cuore sia in pace e io abbia i beni terreni di cui ho bisogno. Concedimi, Santo Onofrio, la grazia di non mancarmi mai il necessario per vivere con dignità. Che la tua intercessione, o Santo Onofrio, sia per me un sostegno costante nei momenti di difficoltà finanziaria. Che io possa confidare nella tua potente protezione e trovare sempre soluzioni ai miei problemi finanziari. Che sappia cercare in te, Santo Onofrio, la forza e il coraggio necessari per affrontare le sfide che la vita mi presenta. Che la tua benedizione, o Santo Onofrio, sia sempre su di me e su tutti coloro che hanno bisogno di aiuto finanziario. Che io possa essere strumento della tua bontà e generosità, aiutando coloro che si trovano in difficoltà finanziarie. Che io sappia condividere le mie risorse con i più bisognosi, seguendo l'esempio di carità e compassione che ci hai dato. Glorioso Santo Onofrio, che per divina provvidenza foste santificato e ora siete nella presenza di Dio. Come hai chiesto tre grazie a Gesù Cristo, ti imploro quattro grazie, glorioso Santo Onofrio. Che la tua potente intercessione, Santo Onofrio, mi accompagni in tutti i momenti della mia vita, specialmente nei momenti di difficoltà finanziaria. Che la tua luce, o Santo Onofrio, illumini il mio cammino e mi guidi nella ricerca della prosperità e dell'abbondanza. Che io possa trovare in te, Santo Onofrio, l'ispirazione e l'orientamento necessari per raggiungere il successo finanziario. Che io sappia valorizzare le risorse che mi sono state affidate e utilizzarle in modo saggio e giusto. Glorioso Santo Onofrio, ti supplico di concedermi la grazia della prosperità materiale, perché possa gustare i frutti del mio lavoro e realizzare i miei sogni. Che io sappia coltivare la gratitudine e il riconoscimento per tutto ciò che ricevo. Che io sappia confidare nella tua potente intercessione, certo che tu, Santo Onofrio, Non mi abbandonerai mai nei momenti di afflizione. Glorioso Santo Onofrio, ti supplico di concedermi la grazia della stabilità finanziaria, perché possa vivere senza preoccupazioni per il futuro. Che io sappia costruire una base solida per la mia vita finanziaria, investendo in modo intelligente e pianificando il mio futuro con saggezza. Che possa gustare i frutti del mio lavoro con gioia e gratitudine, fiducioso che tu, Santo Onofrio, sia sempre al mio fianco, guidandomi e proteggendomi. Amen. Ora, fate le vostre richieste e recitate tre Padre nostri e tre Ave Maria. Che la potente intercessione di Santo Onofrio ci ispiri a perseverare nella fede e nella ricerca di una vita ricca di benedizioni divine. Che questa preghiera sia una luce nei nostri cuori, guidandoci verso la prosperità e la pace interiore. Ringrazio tutti coloro che si sono uniti a noi in questa preghiera speciale. Se, questo messaggio di speranza vi ha toccato, condividete questo video e lasciate un mi piace, rafforzando la catena di amore e fede del canale Momento in Cristo. Insieme, possiamo diffondere la luce del Divino e trasformare le vite.